Ciao ragazzi sono Pani e oggi andiamo a sistemare questa zona qui che è un po' messa male. Andrò a sistemare questo tetto qui che ormai è disintegrato e già che ci sono voglio anche recuperare le acque piovane tramite una grondaia per farle finire in questo contenitore così posso sfruttare l'acqua recuperata dal maltempo per lavori del giardino quindi posso recuperare un po di acqua fare un po di riciclaggio quindi andiamo subito la prima cosa a smontare tutta la struttura e schifo qui 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 si si qui 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, direi che funziona alla grande, il filtro protegge dalle impurità, vedete che sono rimaste in superficie, quindi non finiscono nel bidone le schifezze, il muschio, le foglie, così. Comunque ho messo anche un filtro sulla grondaia e almeno posso recuperare l'acqua piovana, quindi sarà un grasso risparmio idrico. Grazie al rubinetto qui sotto si può collegare direttamente la canna dell'acqua perché ha un attacco rapido, mentre qui si può ad esempio aprire per innaffiatoio manuale e cose così. Ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e scontare la campanella se lo avete ancora fatto così non vi perdete i nuovi video, andate a vedere quelli vecchi se volete. Vi invito anche a seguirmi su Instagram dove si è un pochino più aggiornati su quello che faccio giornalmente. Vi ricordo che inoltre qui nella descrizione del video trovate il link a questo prodotto e un esclusivo codice sconto da utilizzare sul sito, quindi qua sotto in descrizione cliccate sul link e utilizzate il coupon sconto che vi lascio io personalizzato. Ci vediamo al prossimo video.